c'è chi crede di essere un grande scrittore perché tutti lo leggono e c'è chi crede di essere un grande scrittore perché non lo legge nessuno etra pound ora questo è un grande dilemma vale per la letteratura vale per la filosofia vale in genere per ciò che si può definire come successo popolarità anche che so nelle elezioni politiche e quant'altro si gioca continuamente questa partita da un lato si dice a grande personaggio ha avuto molto successo la gente lo ama la ama questa scrittrice piace a tutti dall'altra parte si dice piace a tutti quindi è banale quindi a si è avuto successo ma perché ha incontrato la pancia del pubblico i bassi pensieri perché è banalissimo perché il minimo comune denominatore come non ci sta credo mai di ripetere appunto minimo e quindi se piace a molti e perché vale poco su questa cosa non si sa ben come fare da un lato c'è la lettura aristocratica se è popolare allora manca di spessore dall'altro c'è la letteratura diciamo populista è valido solo se piace alle masse più ampie numerose possibili da questa cosa non si sfugge probabilmente ci sono qualità notevolissime e sofisticatissime che incontrano il favore di molte persone della maggioranza della gente perché molti hanno questa sensibilità probabilmente ci sono cose che hanno successo per ragioni diverse dalla loro qualità la loro capacità di descrivere meglio il mondo di farci capire di più ma hanno successo perché sono gradevoli come passatempo possono essere tante le ragioni di per se stesso non è una prova di qualità il fatto di avere un successo molto ampio non è una por una prova di qualità il fatto che non ci si fila nessuno quindi non teniamone più che tanto conto e andiamo avanti vado avanti io nella mia strada tu per la tua perché attenti a tutto il mondo ma quello che conta essere convinto io essere convinto tu quindi teniamo sempre conto che c'è chi crede di essere un grande scrittore perché tutti lo leggono e c'è chi crede di essere un grande scrittore perché non lo legge nessuno